Sei un batterista e vuoi studiare con Christian Meyer? Per la prima volta, lezioni individuali. Parte la nuova One to One Masterclass di batteria. Dal 2010 a Tedamis, l'esclusivo corso per suonare e studiare insieme a uno dei batteristi più noti e apprezzati del nostro panorama musicale, Christian Meyer, batterista di Elio e le Storie Tese e di altri importanti sodalizi musicali. Da aprile a Tedamis, lezioni individuali con Christian Meyer, la prima e unica possibilità in Italia. Il corso è a numero chiuso ed è patrocinato dalla Regione Toscana, dalla provincia di Arezzo e dal comune di Sansepolcro. Per maggiori informazioni www.tedamis.it Cogli l'opportunità di perfezionare il tuo drumming con Christian Meyer.